domenica 10 dicembre 2023 cambiamo ambiente oggi il nostro giro dopo aver fatto un saluto alla collina caccia delle ultime bolletacee mi accingo a fare il primo raccolto della mia esperienza con i funghi questi che potete vedere sono dei funghetti che nascono sulle piante soprattutto su quelle cadute una zona un po di baraggia ed eccoli qua eccoli qua che belli questi sono proprio belli qui ci siamo sono le 15 ed eccoli qua i primi pleurotus che vado a raccogliere belli carnosi ce ne sono tanti come potete vedere sono piccini sono proprio piccolini e questi li lasceremo crescere e andiamo a cercare quelli che sono già di misura buona per essere gustati siamo nella baraggia a caccia di pleurotus qualcuno invece a caccia di altre cose sentiamo gli spari di tanto in tanto sono vestita colorata per evitare che qualcuno possa impallinarmi ed ecco qua che andiamo a raccogliere questi che sono dei bellissimi esemplari di pleurotus li mettiamo giù e poi raccogliamo anche questi ma raccogliamo solo quelli di misura perché qui ce ne sono davvero tanti e poi bisognerebbe essere bisognerebbe essere o avere una scala o essere altissimi perché su questa pianta e poi ci spostiamo possiamo vedere che via via che si sale tanto per farvi capire che stanno proprio parecchio in alto bisogna andare su 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 e ancora su e adesso li andiamo ad avvicinare guardate che belli che sono immagino che questi grigliati e poi ancora lassù sono meravigliosi e rimarranno lì perché sono inaccessibili comunque continuiamo a giocare